E niente, l'altro giorno ho portato il cane a pisciare e a un certo punto sento come una strana puzza. Ovviamente pensavo fosse il cane. E allora mi dice chi cazzo era? Quella merda di coez. Allora, ma vicino da lui gli dico, deve essere frustrante essere uno scemo nanopeloso, eh? Sto coglione. E lui, subito, pizza rovesciata. E lui, no, no, scuscu, scus, sai, non pensavo. Macchia di piscio nei pantaloni, giacchetta sulla testa e... Nel tartasera stavo con Ube, stavamo anche il babbaro. A un certo punto va a star Gemini D'Aitz. Ne stavamo a bere, ma senti... Perché te l'ha ammagnanato di un pezzo de merda? No, ma l'altra sera stavo tornato a casa dei Rick Ross. Ci stavano il coez e Ube che si stavano a ammagnankebab. Gli ho pisciato sulle scarpe, gli ho detto a scemi e loro muti. Pippa hanno fatto. No, per un espl... Ero all'addio al celibato di King Kong di Mary per sempre l'altra sera con Paola Barale e Noiz. Entriamo nel posto, Gesù e Satam che faceva il fenomeno, tutto fatto, senza maglietta. Arrivo da dietro, pam, scuzzetta. Il tipo si gira, mi vede, abbassa la testa. Eravamo io, Ray Misterio e Rudy Cesaroni al compleanno di Davide Mengacci. A un certo punto Mengacci si tira fuori il cazzo e gli dice a fare Oh, ti piace la mia minchia? Gli faccio, oh, ma cretino, porta rispetto. Lui zitto, testa bassa, fila. Insomma, l'altro giorno stavamo iersine all'esse lunga e niente, passa la verde vicente per Noiz. Mi fa, ma zio, ma ti pareva queste cazze per penere? Siene così pizzone e muto via a casa. Insomma, l'altro giorno stavamo io, Silvano, il libanese, il freddo, e il carver russo. Arriva quel cazzato del danno, tira fuori il pezzo, oh, vai sparare a tutti. E lo guardano, oh, va scemo, ma che cazzo fai? Come muto a catena, pezzo in tasca, via. Niente, l'altra sera stavo con Ube Piaggetti, stavo a scattare un po' una situazione con Sascha Gray, passa Kille Lauro, comincia a fare subito un po' il brillante, pizza dietro la nuca, a casa, a casa, a piedalare. Insomma, l'altra sera stavamo io, Silvano, Lello Arena e poi è in Tarantino. Arriva il nicco, oh, regà, ma mi posso mangiare una cosa con voi? Io ho detto, sì, 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 via qua, via qua. Un panino in bocca va a casa, palla di merda. Insomma, l'altra sera stavamo io, Silvano, Biagio, arriva al cine studio, oh, regà, ho fatto un beat. Ho fatto una quale beat? Tagliatevi i capelli, aggocciante. Ah, ah.